Musica Entra in campo Roma e Milan per questo match valevole la seconda giornata Serie SK Musica Musica Roma redisce dal Parigi dell'esordio per 0 a 0 incredibile male E Milan dice viene da una scomputa all'esordio Proverà di scattarsi oggi con la rosa al completo Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.